Attenzione signore e signori, ricordiamo a tutti i tifosi di non perdere di vista i propri bambini durante la partita, per la loro sicurezza. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Cambio di giocatore. Grazie a tutti. ci sono... 5 minuti di... a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.